Guarda, io l'ho detto un mese fa e lo ribadisco, vedo i ragazzi allenarsi con grande impegno, con grande dedizione, non ho segnali diversi da questo. Poi un conto è riuscire a farlo, un conto è non volerle fare le cose, è chiaro? Quindi sicuramente in queste quattro gare non siamo stati in grado di esprimere quello che magari volevamo fare. La responsabilità tecnica è la mia, non è di nessun altro. Ognuno faccia le giuste valutazioni, le giuste considerazioni. L'ho detto anche ad altri vostri colleghi delle televisioni, sono qui da due anni quasi e mezzo, con la società c'è un grandissimo rapporto, però è anche normale che la società debba avere facoltà e libertà di poter valutare con grande serenità e con lucidità quello che è il bene del Cagliere.